Rispettare e soprattutto tutelare la foresta di Mercadante, l'unico polmone verde rimasto in provincia di Bari. E' il monito dei volontari del WWF di Grumo Appula all'opera a distribuire sacchetti di plastica ai visitatori. Un'attività di prevenzione e sensibilizzazione indispensabile proprio a Pasquetta, una delle giornate clou per l'affluenza nell'oasi naturale. In poche ore le aree picnic si sono ricoperte di tavoli imbandite e di visitatori alle prese con passeggiate, giochi all'aperto e di tradizionali riti della gita fuori porta. Noi invitiamo le persone tavolo per tavolo a non accendere fuochi, specialmente in una stagione di tipo secca dove eventuali carboni possano causare l'appiccamento di un fuoco. L'evento è anche autorizzato dall'ARIF. Che grado di civiltà registrate qui nella foresta in giro a consegnare i bustoni? A livello di rifiuti rispetto agli scorsi anni si è registrato un netto miglioramento, anche se ovviamente dopo eventi come questi, Pasquetta o anche il 25 di aprile, si registra un grado di inciviltà, un minimo tasso di inciviltà si registra. Il tutto sotto lo sguardo vigile degli agenti del Corpo Forestale dello Stato nel decimo anniversario dell'istituzione del Parco dell'Alta Murgia che ha il suo cuore pulsante proprio ammercadante. Ispettate la natura!